Inizierà tra qualche settimana il cantante Mascherato 4, e la conduttrice Milli Carlucci sta iniziando a svelare le maschere, tra cui quella dello squalo. Manca poco tempo. Ormai, all'inizio del cantante Mascherato 4, in questi giorni, la conduttrice del programma Milli Carlucci, sta svelando al pubblico le diverse maschere che parteciperanno al programma di Rai 1. Nelle scorse ore è stato annunciato il personaggio dello squalo. Chi è? Il pubblico sta facendo molte ipotesi su quale VIP possa nascondersi dietro il costume. Facendo riferimento anche all'indizio apparso sul profilo Instagram della trasmissione. Doppio petto gessato e cappello anni 50. Questo è l'outfit di un altro protagonista di questa edizione. Squalo. Chi si nasconderà dietro la maschera? Milli Carlucci svela la maschera dello squalo. Chi si nasconde sotto al costume? Lo squalo del cantante Mascherato. Detto anche, Z-Shark. È così che Milli Carlucci ha presentato il bozzetto del costume in un breve video apparso sui social. La descrizione della conduttrice si è focalizzata sull'outfit del personaggio. Ma alcune persone si sono concentrate più sull'animale rappresentato che sul suo look. Infatti, l'ipotesi più accreditata è quella di Vincenzo Nibali. Ciclista soprannominato proprio lo squalo. Altre persone, invece, associano il look vintage a personaggi più agé. Come il comico Nino Frassica, il cantante Morgan oppure l'attore Massimiliano Gallo. Amato volto di Rai 1 e protagonista di fiction come Vincenzo Malinconico ed Imma Tataranni. Ancora. Alcuni spettatori del programma hanno fatto il nome di Jacopo Lazzarini. In arte Lazza. Cioè il rapper secondo classificato al Festival di Sanremo di quest'anno. Cantante mascherato. Chi sono le maschere? Tutte le novità della nuova edizione. Oltre alla maschera dello squalo. Nei giorni scorsi è stata presentata la maschera dei Colombi. Per quanto riguarda, invece, le novità della quarta edizione del cantante mascherato, c'è l'introduzione del mascherato per una notte ovvero un ospite speciale che apparirà per una sola puntata, esibendosi all'interno di una figura a forma di cuore. Un'altra novità riguarda il giorno della messa in onda, che passa da venerdì al sabato, sempre in prima serata. Lo show della rete Ammiraglia Rai, pertanto, si scontrerà con il serale del talent di Maria De Filippi, in onda su Canale 5 nella stessa fascia oraria. La giuria del cantante mascherato, invece, quest'anno sarà composta da Serena Bortone, Iva Zanicchi, Cristian De Sica, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.